ottimo allora oggi andremo a trattare dell'acqua torbida e vi daremo alcuni diciamo consigli e rimedi per prevenire l'acqua torbida e tutte le soluzioni per riuscire a far spendere la propria piscina noi di tutto per la piscina siamo nel mercato da oltre dieci anni siamo esperti nel mondo delle piscine abbiamo un sito web online da circa un anno e oltre ad essere specializzati nella vendita di prodotti inerente al mondo delle piscine siamo anche specializzati nell'assistenza clienti quindi tutto ciò che è relativo all'assistenza clienti e a tutte le problematiche relative alle piscina io vi invito anche a seguirci sui nostri canali social e qui in ciascuna slide potrete vedere il nostro sito per poter appunto visitare il nostro sito web prima di iniziare abbiamo una domanda per voi a breve dovreste vedere un sondaggio con scritto mai problemi ha mai avuto problemi di acqua d'orbida e potete rispondere tra si e no aspettiamo qualche secondo che si risponda allora io vedo già che ci sono quattro persone che hanno risposto sì soltanto che abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e non vedo il nostro ospite vediamo se si può riuscire a risolvere comunque vedo che molti di voi hanno avuto problemi di acqua d'orbida oggi andrea il nostro ospite ha avuto alcuni problemi di connessione quindi vediamo se riesce a risolvere attendiamo un momento aldo letto la tua risposta non è proprio d'orbida ma è un po paga a breve tratteremo anche di questo vediamo se riusciamo a risolvere i problemi di connessione di andrea nel frattempo ti chiedo di dirmi magari che tipologia di piscina hai così appena andrea riesce ad entrare nella stanza possiamo approfondire l'argomento anche con lui allora siccome vedo che comunque ci sono molti sì abbiamo una seconda domanda proprio perché vedo che molti di voi hanno avuto problemi di acqua d'orbida quindi dovreste vedere un secondo sondaggio dove vi chiediamo qual è la tipologia di flocculante che usate nel momento in cui riscontrate problemi di acqua d'orbida quindi se usate un flocculante a pastiglia cartuccia liquido granulare Andrea tu vedi e senti tutto bene allora mi sono appena ricollegato perché ho problemi di connessione e adesso mi sono ricollegato con il telefono quindi mi auguro che mi auguro che sia stato adesso si sente tutto bene allora nel sondaggio precedente quello sulle problematiche relativa all'acqua d'orbida tutti avevano risposto di sì quindi diciamo è proprio il webinar perfetto per loro ok nel secondo sondaggio sulla tipologia di flocculante diciamo che c'è chi lo usa a cartuccia o a pastiglia chi liquido e chi granulare quindi utilizzano un po' tutti queste diverse tipologie e vedremo nel corso del webinar qual è la differenza tra di esse nel frattempo mentre tu non c'eri Aldo c'è scritto che la sua acqua non è proprio d'orbida ma è opaca e non ha mai usato il flocculante quindi magari poi andremo ad approfondire anche questa io non ho messo il flocculante magari andremo ad approfondire anche questa problematica ok perfetto bene adesso dovreste vedere le slide quindi di cosa andremo a parlare oggi il succo diciamo di tutto il webinar è proprio l'acqua d'orbida le motivazioni quindi perché l'acqua della propria piscina diventa d'orbida quindi da cosa è causata l'alleato ideale è perfetto per cercare di risolvere l'acqua d'orbida ovvero il flocculante che tipologie di flocculante esistono e quali sono le specifiche funzioni scusate del flocculante e alla fine del webinar ci sarà un codice sconto per voi su tutto il nostro catalogo nel nostro sito web www.tuttoperlapiscina.com quindi vi invito a rimanere fino alla fine del webinar proprio per scoprire questo codice sconto chi è il nostro ospite che ci aiuterà in questo percorso è Andrea Merpignano esperto in soluzioni per il trattamento della piscina quindi Andrea cedo a te la parola per diciamo guidarci in questo webinar grazie Monica grazie Monica e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci seguono anche per questi argomenti estremamente interessanti poiché può essere non capitato a nessuno magari di avere l'acqua torbida tuttavia in una piscina le probabilità che l'acqua si intorbidisca o come ci ha scritto il nostro amico prima un po' opaca possono succedere quindi partiamo da un assunto l'assunto che abbiamo fatto praticamente in tutti i nostri seminari e che ci porteremo anche nei prossimi è proprio quello che la piscina è un sistema dobbiamo come dire mettere i puntini sulla E da questo punto di vista poiché se la consideriamo come sistema il nostro webinar che è sul floculante, sulla floculazione quindi su rendere trasparente l'acqua non può prescindere dal sistema generale della piscina qual è il sistema generale della piscina? la parte meccanica e la parte chimica per quanto riguarda la parte meccanica intendiamo un buon dimensionamento dell'impianto di filtrazione intendiamo una buona distribuzione di quelli che sono che è l'impianto di ricircolo quindi di filtrazione una buona qualità del filtro che sia a cartuccia, sabbia, in vetro a vetro, che sia di atto menso che ci sia una buona qualità dell'impianto di filtrazione per controbilanciare e rimanere in equilibrio visto che è un sistema c'è la parte chimica e lì suggeriamo ai nostri amici di andare magari a vedere anche i precedenti webinar perché si parlava di equilibrio dell'acqua si parlava di cloro si parlava di cose molto interessanti all'interno della parte chimica quindi per quello che è l'assunto è importante che consideriamo sempre questo equilibrio all'interno della parte chimica ci sono anche quei prodotti come quelli di cui trattiamo stasera che soddisfano un'esigenza che soddisfano un bisogno cioè quello di migliorare la qualità della trasparenza dell'acqua poiché ripetiamo per ridefinirlo come assunto che per avere il buon equilibrio nell'acqua stiamo parlando di impianto di filtrazione approccio chimico e qui invece stiamo parlando di come andare a dare più trasparenza all'acqua considerando che nella media nelle piscine residenziali anziché nelle piscine pubbliche abbiamo un'ottima qualità dell'acqua già data da questo equilibrio di sistema che dicevamo prima tuttavia che cosa subentra e arriva diciamo la necessità di intervenire quando perdiamo un po' di trasparenza nell'acqua quindi come trasparenza dell'acqua abbiamo visto adesso non è quindi solo un fattore solo chimico perché si perde trasparenza nell'acqua fondamentalmente pur avendo abbiamo detto un ottimo sistema lo diamo per assodato ci sono dei fattori che causano un po' la perdita di trasparenza questi in linea generale li definiamo proprio come trasversali ecco poi ognuno ovviamente ci porterà il proprio caso o avremo lo spazio per le nostre domande domande sì esattamente esatto qui abbiamo diviso in due diciamo le cause l'effetto ambientale e la qualità della filtrazione meccanica partiamo dal secondo che così si collega all'argomento che abbiamo trattato fino adesso sulla parte della qualità della filtrazione meccanica che cosa si intende? che se quando riapri la piscina adesso siamo nella fase dell'apertura dell'apertura delle piscine se quando riapri la piscina non effettui un check di questo filtro di questo impianto di filtrazione che non è solo il filtro è anche la pompa ho visto pompe completamente intasate nei cestelli di per esempio capelli, residui o cose che possono passare attraverso uno skimmer e finire dentro nella pompa o anche nelle piscine a bordo sferatore quindi se io non mi occupo della corretta pulizia dei canali che portano alla filtrazione impedirò al filtro di effettuare una buona filtrazione meccanica di conseguenza ogni residuo all'interno dell'acqua anziché fermarsi nel filtro tenderà a intasare il filtro e quindi a ritornarmi poi in vasca creandomi torbidità quindi la parte meccanica è la prima cosa è un buon mantenimento di quello che è il sistema di filtrazione non dimentichiamoci come dicevamo anche poc'anzi che per sistema di filtrazione così le abbracciamo tutte il filtro cartuccia la buona pulizia del filtro cartuccia il mantenimento della cartuccia sempre pulita del filtro a sabbia a massa quindi a sabbia o a vetro dei periodici contro lavaggi che aiutino a mantenere diciamo la qualità della sabbia o della massa filtrante comunque adeguata e la pulizia di tutto ciò che è il canale a cui arriva l'acqua a questo filtro quindi vasca di compenso canaline di sfioro skimmer e luoghi dove vengono inserite le cartucce dei filtri perfetto quali sono invece per l'effetto ambientale cosa succede? fondamentalmente si parla di sostanze organiche però cosa succede nell'ambiente? c'è lo sporco introdotto dall'aria e dai bagnanti cosa vuol dire? che ovviamente quando io entro in piscina parlo come persona fisica apporterò a volte sudore a volte saliva creme solari creme solari make up esatto make up bravissima cioè ci sono una serie di inquinamenti ambientali portati da noi che facciamo il bagno che possono essere un po' prevenuti utilizzando una delle cose che nelle piscine pubbliche è obbligatoria che è la doccia iniziale ok? sia vaschetta lavapiedi che doccia per diciamo sgrassare di queste cose prima di introdursi in acqua e poi quelle che invece sono introdotte dall'aria questo nel caso in cui abbiate una piscina esterna questo effetto ambientale è più ridotto nelle piscine ovviamente chiuse nelle piscine pubbliche al coperto e che cosa viene apportato dall'esterno? caspita di ogni pollini adesso questo è il periodo dei pollini delle polveri ci sono continui repentini cambi di meteo e quindi le piogge la pioggia che si trascina e filtra tutto ciò che trova nell'aria lo porta verso il basso e quindi entra in piscina quindi vedete che cause ambientali ce ne sono veramente tante tra cui apportate da noi e dall'ambiente che cosa generano questi generano un forte nutrimento per quelli che sono alghe batteri e anche virus questo nutrimento perché alla fine queste materie organiche sono ovvero il nutrimento per questi organismi microorganismi questi microorganismi vengono parzialmente o quasi totalmente distrutti da un buon supporto di chimico di cloro o di prodotti alternativi e altri invece rimangono diciamo in sospensione questi che rimangono in sospensione vogliamo comunque pulirli e trattarli man mano che questi residui restano in sospensione e non riescono a essere trattenuti dall'impianto di filtrazione per x y motivi che adesso vedremo chiaramente aumentano e quando questa massa di piccoli microorganismi piccoli pulviscoli rimangono in sospensione nell'acqua più aumentano e più io noto una perdita di trasparenza quindi significa che quando io perdo trasparenza ho un deficit effettivamente dal punto di vista visivo non vedo più l'acqua trasparente perché è occupata da altri elementi all'interno dell'acqua quindi diciamo che fa parte anche della perdita di trasparenza lo vedevamo lo vedevamo anche l'altra volta con l'effetto dell'equilibrio del pH anche per esempio precipitati di calcio quindi quando ci sono acque troppo calcare rischio di intensificare questo effetto di perdita di trasparenza quindi vedete che gli effetti ambientali sono molteplici qui abbiamo parlato di effetti veramente molto trasversali ci sono possibilità che diciamo prima nessuno abbia mai fatto l'aperta idea di trasparenza però vi assicuro che nella media è un argomento molto interessante perché sapere come fare a prendere sicuro la cucina non appena perde l'aperta di trasparenza è ciò che ci salva chiamiamo dall'intervento magari di tecnici specializzati e saperlo fare un po' da noi o saperci orientare meglio nelle scelte è importante quindi quando io dimmi Monica ho visto che stavi a questo punto quindi ti volevo chiedere cosa fare nel momento in cui vediamo che l'acqua della piscina diventa torbida esatto qui ci viene in aiuto il nostro floculante quindi in aiuto il floculante perché abbiamo visto prima devo aver verificato previamente che il mio l'impianto di filtrazione sia in buono stato devo pulire bene gli impianti di filtrazione affinché siano davvero e garantiscano il trattenimento delle particelle di sospensione però è anche vero come abbiamo detto prima le polveri gli effetti ambientali la decomposizione di sostanze organiche che rimangono in sospensione nell'acqua non vengono e non riescono a essere tutte trattenute dagli impianti di filtrazione che seppur sofisticati spesso non riescono a trattenerli quindi noi cosa dobbiamo fare dobbiamo dare agli impianti di filtrazione più capacità filtrante quindi dobbiamo aumentare i micron i micron di filtrazione come li aumentiamo ci viene in aiuto il floculante ok quindi concettualmente è questa turbidità o questa perdita di trasparenza causata da effetti ambientali e meccanici possiamo aiutarla con il floculante perché aumenta la capacità del filtro di trattenere questo pulviscolo ok prima di parlare però del flocculante che è appunto l'alleato perfetto nel momento in cui l'acqua della piscina diventa d'orbita tu hai detto che il filtro è proprio il cuore della piscina quindi tutto dipende dal filtro io ti chiederei di parlare un po' del filtro e di spiegarci perché è così importante e ci aiuteremo anche grazie a questo slide dove proprio si vede il lavoro che fa il filtro all'interno della nostra piscina perfetto Monica fai una domanda al pubblico che arrivo va bene nel frattempo io vi chiedo se ci sono domande vi chiedo di porle qui in chat in modo tale che Andrea non appena torna può rispondere ok ho visto che Aldo ha posto una domanda abbastanza lunga ora appena torna Andrea la leggiamo tutta Marco ci dice che per adesso è tutto chiaro quindi speriamo di continuare così attendiamo qualche secondo rieccomi perfetto allora prima di andare a parlare del filtro ho visto che Aldo ha scritto in chat lui dice in inverno lascio la piscina scoperta con una filtrazione limitata e con l'accensione di poche ore al giorno ad inizio maggio la piscina si stava facendo verde quindi l'ho attivata e pulita ma è rimasta un po' opaca ho usato l'ossigeno ho messo al posto il pH ma non sono riuscita a risolvere del tutto è caduto molto polline può esserne la causa è vero che il flocculante è nocivo? beh caspita allora ha eseguito le operazioni corrette sempre in modo chiamiamo sempre così in modo generale quindi la fa circolare poco d'inverno man mano che aumenta la temperatura nel nostro primo seminario abbiamo detto quando arriviamo circa ai 20 gradi di temperatura ambientale è meglio mettere in funzione la piscina come se fosse già una un utilizzo diciamo costante sicuramente il periodo dei pollini come abbiamo visto la causa ambientale in cui fra tutto contribuiscono a far perdere un po' di trasparenza io credo che sia efficace nel suo caso utilizzare il flocculante per migliorare la qualità della filtrazione che adesso diciamo vedremo anche in questa slide del filtro spiegando il contro lavaggio e il flocculante non è nocivo poiché il flocculante viene completamente disciolto mentre si utilizza e una volta trattenute le impurità grazie a questo flocculante che è un coagulante con il contro lavaggio viene poi diciamo espulso quindi non ha nessun impatto sulla chiamiamo sulla nostra salute ecco qui stiamo parlando di prodotti che devono essere correttamente utilizzati e quindi bisogna far riferimento alle etichette ecco etichette dei prodotti riportano il corretto uso del flocculante adesso vedremo anche quale flocculante e come utilizzarlo anche perché ci sono diverse tipologie di flocculante Gianluca chiede nei filtri a cartuccia posso usare il flocculante allora fino o meglio tante tanti dicono di no diciamo che i flocculanti tradizionali non possono essere utilizzati con i filtri a cartuccia tuttavia tutto per la piscina ha dei flocculanti specifici per i filtri a cartuccia quindi questo flocculante specifico per i filtri a cartuccia compatibile anche con altri tipi di filtri è assolutamente consigliato per tutto quello che ci stiamo dicendo e che diremo anche dopo quindi sì tutto per la piscina ce l'abbiamo ok perfetto Aldo ha risposto no allora Franco chiede in che senza ha usato l'ossigeno e poi Aldo ha risposto a una piscina senza cloro quindi possiamo andare invece adesso noi a parlare del filtro e spiegare quindi perché è così importante il filtro all'interno di una piscina esatto allora del perché è così importante il filtro lo sappiamo nel senso che crea il suo approccio nella filtrazione è un po' il processo di funzionamento se sei d'accordo Monica ancora prima di spiegare il processo di questo controllavaggio diamogli solo la definizione di questo floculante così diciamo come si crea all'interno del filtro allora alla fine il floculante che è il coagulante abbiamo detto anche prima che cosa fa agisce in modo chimico e meccanico poiché una volta disciolto una volta presente all'interno del filtro crea una sorta di chiamiamola pellicola giusto per capirci di film che aumenta il grado di filtrazione del filtro quindi quelle particelle che prima passavano attraverso la massa filtrante e ritornavano in piscina e quindi queste particelle continuavano a girare rimanendo in sospensione grazie al floculante io riesco a incrementare la capacità del filtro di trattenere ritenere questi elementi e quindi una volta trattenuti nel filtro non li ritrovo più in acqua e aumenta la trasparenza dell'acqua che cosa fa il floculante in sostanza ha due diciamo due si divide in due parti la prima che è quella della coagulazione e quindi senza entrare troppo nello specifico però diciamo che tendenzialmente sono a base di solfato di alluminio si mettono si mette questo prodotto che ha un effetto destabilizzante su quelle che sono le sostanze colloidali che compongono i materiali di tensione e quindi cosa fanno le destabilizzano se sono cariche negative positive alla fine queste cariche si attraggono e questa che è la fase 2 crea l'unione di queste sostanze in sospensione che da microscopiche piccoline ma tante che fanno perdere trasparenza creano un flocculo un po' più grande quando questo flocculo è un po' più grande riesce a essere trattenuto all'interno diciamo del filtro questo è l'effetto di un flocculante perché è coagulante perché prende le masse diciamo le impurità quello che ci fa perdere trasparenza le rende un po' più grosse e vengono trattenute questo effetto adesso ce lo ritroviamo immaginiamoci quindi di aver inserito un processo chimico di flocculazione vada all'interno del filtro e che a questo processo adesso mi si sia creato all'interno del filtro una migliore qualità di filtrazione perché riesco a trattenere più materiale organico e quindi ho ottenuto come effetto finale una migliore trasparenza in acqua adesso possiamo tornare al nostro filtro esatto perfetto nella parte di sinistra si vede quello che è il processo tradizionale di filtrazione cioè l'acqua piove dall'alto verso il basso e quindi quando piove dall'alto verso il basso quest'acqua che arriva dalla aspirazione quindi dagli skimmer dalla vasca di compenso dal filtro dalla cartuccia dallo zaino in aspirazione entra nella massa filtrante e una volta che entra nella massa filtrante vedete che l'acqua scende penetra tutta la massa filtrante allora se io sopra grazie all'effetto della flucolazione ho aumentato il grado di filtrazione significa che sulla parte superficiale nei primi 4, 5, 6 cm della massa filtrante in questo caso ci riferiamo a filtri a massa quindi a sabbia o a vetro avrò trattenuto più impurità di conseguenza visto che su quella valvola che può essere in testa o laterale come in questo caso c'è un manometro noterò un aumento di pressione perché è chiaro che più il filtro è pieno e trattiene più sporcizia e più aumenta di pressione quello è il momento ideale per fare la figura di destra che è l'operazione di contro lavaggio e cosa vuol dire che tutte le impurità che ho trattenuto quindi rispondiamo anche alla domanda di prima che ci ha detto no ma è nocivo e io gli ho detto no poi si manda via cosa succede che io inverto il flusso e l'acqua cosa fa passa da sotto e praticamente fa un contro lavaggio della sabbia quindi inverte il flusso dell'acqua e l'acqua va da sotto muove la massa superficiale muove tutta la massa ma tutta quella superficiale che era piena di sporcizia fa il percorso inverso torna indietro e grazie a questa valvola selettrice manda tutte le impurità verso lo scarico quindi che cosa ho fatto prima nella figura 1 ho filtrato e ho trattenuto le particelle di impurità e migliorato la qualità dell'acqua grazie alla flucolazione che ne ha incrementato la capacità di trattenere le particelle in sospensione e nella figura 2 ho effettuato un lavaggio del filtro eliminando tutte queste particelle in sospensione che avevo già trattenuto ripristino così in questo modo la capacità tradizionale classica del mio impianto di filtrazione detto ciò si ripete il ciclo cioè ho migliorato la qualità della trasparenza dell'acqua ho fatto il controllavaggio e cosa mi si riprodurrà successivamente nuovamente il ciclo del inquinamento dovuto ai bagnanti e all'ambiente ecco perché noi suggeriamo che un trattamento di flucolazione è una garanzia se praticata diciamo in modo sistematico una garanzia per mantenere trasparente o più trasparente l'acqua della propria piscina perfetto parlando quindi del flucolante abbiamo dato prima la definizione che posso vedere in questo slide però abbiamo detto che ci sono tipologie diverse di flucolante già l'avamo accennato nel sondaggio fatto all'inizio quindi adesso Andrea io ti chiedo di spiegare quali sono queste diverse tipologie e qual è soprattutto la reale differenza tra queste perfetto allora partiamo dal più tradizionale oddio poi dipende il più tradizionale per me magari però partiamo in fila come sono indicati qua ok quello in pastiglie i flucolanti in pastiglie si trovano in commercio ovviamente di diverse tipologie pastiglie da 100 grammi 20 grammi 15 grammi pastiglie alla fine è un prodotto chimico messo sotto forma di pastiglia perché questo? perché lo rende molto pratico lo rende molto pratico per essere posizionato nei classici skimmer per essere posizionato nei contenitori appositi per diciamo la filtrazione come può essere per esempio una canalina per il bordo sferratore ed è molto pratico perché un qualsiasi utente ne prende atto guardando l'etichetta vede in funzione della pastiglia il dosaggio da applicare quindi diciamo che tradizionalmente sono molto efficaci e sono facili anche per l'impiego la pastiglia che cosa fa esattamente quello che abbiamo detto prima è un prodotto più indicato per il mantenimento un po' come bisognerebbe fare cioè la perdita di trasparenza a diversi livelli la perdita di trasparenza dove la voglio solo migliorare la perdita di trasparenza dove ho notato come ci ha detto il nostro amico prima che seppur ha avviato l'impianto stava diventando verde gli è rimasta ancora un po' opaca oppure ci sono piscine completamente compromesse infatti andremo poi anche ad approfondire queste due tipologie di problematiche esatto quindi in quella di pastiglie diciamo che il suo obiettivo è quello di mantenere la piscina trasparente o più trasparente e ci si rifà a quello che abbiamo detto prima quindi l'impianto di filtrazione con un apporto di flocculante in maniera sistemica mi consente di migliorare la qualità di filtrazione mantenere l'acqua più trasparente poi faccio il contro lavaggio il lavaggio del filtro il lavaggio della cartuccia e ripeto il mio trattamento sistematico di flocculazione ripristinandone diciamo le qualità della migliore filtrazione dei filtri il flocculante il flocculante in forma granulare non è nient'altro che la materia prima con cui poi viene fatta la pastiglia quindi si prende il granulo e viene compattato e si forma la pastiglia perché il granulare ha una praticità diversa perché anche sul granulo è chiaro che adesso ve lo dico io che lo uso nella mia piscina quando parlo anche di cloro granulare noi diamo tutte le definizioni 15-20 grammi al metro cubo lo fai una volta lo fai due lo fai tre dopodiché fai un po' come dice qualche mio amico io sono appassionato di cani con le crocchette del cane vado dentro con il mio bicchiere quello che prendo prendo in realtà è per quello che il flocculante non bisogna abusarne non perché è nocivo ma non bisogna abusarne poiché così ne diamo già anche lì un'indicazione importante se io ne uso troppo posso ottenere un effetto contrario cioè addirittura avere troppo flocculante può crearmi una flocculazione quindi una coagulazione direttamente in vasca e questo provoca un effetto di intorbidimento perché quelle particelle microscopiche che diventano più grandi ma non vengono trattenute dal filtro perché è già troppo pieno di flocculante troppo pieno di sporcizia eccetera mi rimangono in sospensione nell'acqua quindi diciamo che il granulare ha una sua valenza quando se ne fa un uso io lo dico lo definisco più professionale quando parlo di piscine pubbliche dove si parla di materia prima dove magari c'è un esperto preposto al dosaggio di questo prodotto e con lo stesso prodotto granulare si può anche trasformare il prodotto in forma liquida anche se sul prodotto liquido c'è direttamente il prodotto in formato liquido già bene che è pronto all'uso ci sono due domande sì scusa ti interrompo perché Franco già aveva chiesto una volta fatto il trattamento con il flocculante dopo quanto tempo si può fare il bagno in piscina ma non c'è nessuna controindicazione anzi il flocculante così arriviamo ritorniamo alla pastiglia che così chiariamo questo discorso se io metto una pastiglia diciamo se io metto la dose adeguata di flocculante in funzione del volume della mia piscina che sia nello scheme che sia la vasca di compenso che sia dove ho i filtri cartucce che sia dove ho qualsiasi posizione dove posso inserire il mio flocculante l'impianto di filtrazione funziona come tutti gli altri giorni non devo fare nient'altro non cambia assolutamente nulla è che lui lentamente si scioglie copre la massa filtrante del filtro aumenta la sua capacità di retenzione ma io continuo a fare il bagno come prima non c'è proprio nessuna controindicazione è solo una qualità superiore per migliorare la qualità di filtrazione del mio filtro del mio impianto di filtrazione non ha nessuna controindicazione quindi si può fare il bagno immediatamente forma di mantenimento della piscina ok quindi pastiglie forma diciamo in cui voglio continuare a tenere trasparente o migliorare la trasparenza della mia piscina quindi nessuna controindicazione fabio invece chiede se invece di utilizzare solo il floccolante si utilizzano le pastiglie multifunzione abbiamo lo stesso risultato questa è una bellissima domanda chi l'ha fatta fabio fabio si fabio codice sconto per due per lui immediato immediato allora perché è una bellissima domanda perché ci ricollega un po' al poi gli facciamo anche una domanda fabio se ha seguito il precedente webinar il webinar su cloro tricloro e multifunzione dove abbiamo appunto approfondito esatto abbiamo parlato di multifunzione perché è una bella domanda perché effettivamente il multifunzione ha nella sua composizione chimica il prodotto di disinfezione il prodotto di prevenzione delle alghe e il prodotto per la flocculazione che aiuta diciamo a flocculare direttamente sulla massa filtrante aiuta assolutamente sì il risultato è lo stesso quello che posso dire è che è un coadiuvante è un aiuto ma non può essere lo stesso perché non può essere lo stesso perché la pastiglia multifunzione è una pastiglia creata per creare una facilità di impiego cioè all'interno di questa multifunzione a parte il pH riesci a dare un pochino di tutto un pochino di flocculante un pochino di antialga tuttavia in casi in cui abbiamo e quindi magari non è il tuo però in casi in cui abbiamo dei deficit di filtrazione o di impianti di ricircolo non è sufficiente perché la dose all'interno di quella pastiglia è fissa è minima è un multifunzione a supporto del cloro quando invece si parla di trattamento di flocculazione si parla proprio di uno specifico trattamento con una grande efficacia quindi ti rispondo nuovamente riassumendo si è un aiuto è un supporto se la tua piscina con il multifunzione non ha nessun tipo di problemi dal punto di vista della turbidità va benissimo perché allora vuol dire che c'è tutto in equilibrio altrimenti sappi che puoi aggiungere e puoi utilizzare una flocculazione specifica per migliorare la qualità della trasparenza dell'acqua c'è un'altra domanda da parte di Aldo che direi proprio che è nel webinar giusto anche perché aveva molti dubbi riguardo il flocculante e non l'aveva mai usato e infatti ci chiedo è letto che spesso i residui creati dal flocculante si ritroveranno anche sul fondo della piscina quindi poi bisogna aspirare è vero? Perfetto arriviamo a questo punto al prodotto liquido giusto? eravamo all'ultimo come si presenta il flocculante in commercio ed è anche in forma liquida allora il prodotto liquido è esattamente flocculante come gli altri la sua forma è molto pratica tuttavia come dicevo prima attenzione i dosaggi sbagli un colpo hai messo troppo flocculante quindi immaginate che e questo forse è un errore in buona fede che spesso si fa anche acquistando il prodotto magari guardo sugli scaffali o sulle offerte flocculante liquido la materia prima liquida tendenzialmente tendenzialmente più economica rispetto alle altre prendo quello e poi cosa faccio? lo uso male lo metto dentro nello skimmer cosa vuol dire lo uso male? non seguo i dosaggi in maniera coerente e quando io metto troppo flocculante cosa vi ho detto prima nell'abbondanza nel sovradosaggio come ci dice Aldo qua una parte rischia di tornare in acqua e quando vai in acqua allora il problema me lo ritroverò anche nei flocculi in acqua ergo cosa dicevo prima per una buona manutenzione un buon mantenimento io a il mio migliore amico suggerisco di utilizzare per piscine diciamo uso residenziale che hanno per esempio piscine skimmer piscine con filtri a cartuccia il flocculante adeguato ma in pastiglie mentre invece il liquido viene utilizzato per migliorare la qualità degli impianti in filtrazione delle piscine pubbliche con una precisione al millilitro cosa cosa significa perché usano il liquido nelle piscine pubbliche perché se ne usa tanto e quindi materia prima costa un po' di meno ma come viene dosato cioè si fa proprio un dimensionamento di filtri del diametro 2000 di diametro giusto per capirci enormi e all'interno dell'impianto di filtrazione viene messo con una pompa dosatrice viene iniettato il fluculante liquido con una pompa dosatrice in una mano viene proprio iniettata la quantità perfetta e precisa per migliorare la qualità di filtrazione dei filtri quindi vedete che proprio perché c'è bisogno di rispettare le quantità corrette anche negli impianti più importanti il prodotto liquido viene sì impiegato ma in maniera assolutamente controllata altrimenti anche loro avrebbero lo stesso effetto cioè troppo fluculate mi finisce in vasca sarebbe un disastro per le piscine da 50 a 25 metri potete immaginare se quelle piscine perdono trasparenza come il pubblico è meno incentivato a frequentarle prima di andare prima di andare però a vedere diciamo le due tipologie ovvero quella di mantenimento è quella in cui dobbiamo totalmente diciamo far rinvigorire l'acqua farla ritornare diciamo cristallina in quanto è totalmente d'orbita volevamo proporre appunto al nostro pubblico ci sta seguendo queste diverse tipologie di flocculanti che abbiamo appena visto che ci ha spiegato Andrea quindi il flocculante a pastiglie il flocculante granulare il flocculante liquido presenti sul nostro sito www.tuttoperlapiscina.com queste sono soltanto alcune delle tipologie diciamo di flocculante che potrete trovare all'interno del nostro sito in ogni caso c'è una categoria proprio relativa ai flocculanti e lì potete trovare quello che fa il caso vostro e vi ricordo dopo che alla fine vi daremo appunto il codice sconto con cui potrete anche acquistare questi prodotti esatto bravissima qui ecco la scelta ha scritto dice io ho una piscina sfioro di 70 metri cubi di acqua compresa la vasca di compenso anche in questo caso è meglio utilizzare le pastiglie perfetto allora qui gli rispondiamo dicendo ovviamente sì nel senso che o hai come abbiamo detto prima un sistema di dosaggio perfetto con un prodotto liquido altrimenti per non sbagliarsi è meglio la pastiglia posizionata per esempio in una canalina una canala di sfioro la posizione nella canala di sfioro è sempre la stessa acqua che esce dal bordo sfioratore passa attraverso la canalina e va all'impianto di filtrazione quindi assolutamente è consigliato per non sbagliare i dosaggi metterlo magari nel canale di sfioro è più pratico si riesce ad accedere nel canale di sfioro è più pratico Aldo chiede quello liquido non si mette nello skimmer ecco rispondo ridicendo la stessa cosa di prima che si potrebbe anche mettere il prodotto liquido nello skimmer qual è il grossissimo handicap che il prodotto liquido nello skimmer non riesce a controllarlo nel senso che rischi come succede nella stragrande maggioranza delle volte che c'è un abuso del prodotto perché il liquido non ha non c'è come nella pastiglia l'effetto scioglimento c'è una botta veloce di liquido che entra magari non riesce ad essere trattenuto subito tutto dalla massa filtrante e ti ritorna in vasca quindi per me come dice la Mayonki è no per me è no messo nello skimmer continuo a chiederci continuo a chiederci nemmeno se lo diluisco prima io non io non mi complicherei sinceramente la vita quando ho a disposizione le pastiglie ecco meglio farla facile sì ma anche perché fare la diluizione del flocculante trovo che sia poi vi dico anche un'altra cosa tecnica ok dal punto di vista più chimico tecnico-chimico il flocculante liquido ha una sua vita proprio perché tendenzialmente dovrebbe essere policloro di alluminio insomma una materia prima che tende a tende a avere una durata non superiore tendenzialmente a un anno una cosa del genere mentre invece la pastiglia dura molto di più come scadenza quindi diciamo che tendenzialmente non se parlo di piscina residenziale non andrei a complicarmi la vita con una diluizione per metterlo nello skimmer ma veramente molto facile e pratico con la pastiglia l'altra cosa che rispondiamo che c'è all'immagine messa qui a nostro favore per i filtri a cartuccia c'è il floville quel flocculante che si vede lì in quel tubetto che è anche specifico per filtri a cartuccia forse è l'unico specifico per filtri a cartuccia quindi che ha filtri a cartuccia sicuramente troverà benefici con questo tipo di flocculante nel frattempo prima di andare avanti io dico a Fabio che la tua domanda è una domanda interessante ma rispondiamo alla fine nel momento in cui ci saranno le domande in modo tale che concludiamo con questo discorso dell'acqua d'orbita e del flocculante e poi possiamo rispondere alla tua domanda proprio per questo Andrea adesso ti chiedo quando usare il flocculante e quindi di spiegarci le due tipologie per mantenimento e per recupero perfetto allora per il mantenimento diciamo che ne abbiamo dato quasi ampio respiro fino adesso quindi qualsiasi mezzo io abbia perché abbiamo detto anche per le pubbliche è mantenimento utilizzare quello liquido con la sua pompetta tosatrice in maniera con i millilitri giusti mantenimento cosa vuol dire che io ho una piscina ho un impianto di filtrazione ho un buon trattamento acqua generale ho un buon equilibrio di pH cloro ho un buon apporto di alghicida ho tutto in regola e ho però la necessità ho la volontà di aumentare e migliorare la qualità della mia acqua quindi come mantenimento io utilizzo oltre ai vari prodotti che sto utilizzando già per il mio trattamento acqua questi prodotti floculanti che mi aiutano a migliorare la trasparenza dell'acqua per mantenimento cosa si intende? come abbiamo fatto il discorso prima dei contro lavaggi che il floculante tendenzialmente adesso prendo come esempio la pastiglia il più diciamo utilizzato quella si scioglie crea la cappa sul mio filtro aumenta la filtrazione nell'arco di una settimana faccio il mio contro lavaggio del filtro e dopodiché posso reinserire una nuova dose quindi quello intendo per manutenzione mantenimento scusate vuol dire che in maniera sequenziale e programmata io mantengo il grado di filtro aumento il grado di filtrazione del mio impianto grazie al floculante la seconda parte invece è quella del recupero e qui sì che si arriva al prodotto liquido di grande interesse ma solo per il recupero per quanto diciamo riguarda la mia esperienza quella che vi porto io ovviamente allora cosa significa il recupero? abbiamo detto i gradi di torbidità dell'acqua sono molteplici si arriva addirittura a un grado di torbidità tale per cui si definisce una piscina non recuperabile e allora quando non è recuperabile con un sistema tradizionale di filtrazione o trattamento acqua basico allora per eliminare la perdita di trasparenza perché ormai non vedo più niente non vedo più le bocchette non vedo nulla ok cosa faccio? utilizzo il prodotto liquido tuttavia diamogli le indicazioni giuste perché sì che vado a fluculare in vasca stavolta quindi cosa faccio? spengo l'impianto di filtrazione fermo la piscina totalmente una volta che ho fermato la piscina totalmente mi ritroverò col mio bacino di acqua completamente torbido bene ho creato un'acqua ferma a quel punto il suggerimento è inserire dell'acqua nuova alzare il livello dell'acqua poi arriveremo al perché perché purtroppo dovremmo comunque un po' eliminarla alzo un po' il livello dell'acqua se ho degli skimmer anche sopra il livello degli skimmer non preoccupatevi che adesso vi diremo che tanto poi si abbassano una volta che l'acqua è ferma io prendo il flocculante liquido qui sì che mi torna utile questo prodotto perché è super pratico è già disciolto è già in forma liquida e a piscina ferma distribuisco la quantità adeguata direttamente sulla superficie dell'acqua qual è l'effetto è l'effetto del flocculante cioè lui nell'arco delle 10-12 ore farà da coagulante e flocculante andrà ad inspessire le le impurità che creano la la non trasparenza dell'acqua che quindi sono volatili sono leggere più leggere dell'acqua se no sarebbero già sul fondo le rende più pesanti e le trasporta verso il fondo di piscina a questo punto attendendo queste 10-12 ore che cosa otterrò che nella parte dovrò notare una migliore trasparenza dell'acqua non potrò notare una trasparenza dell'acqua perché tutto sto flocculante avrà creato dei floccoli sul fondo della piscina che sono molto leggeri quindi ricollegandoci al punto di prima perché abbiamo alzato il livello dell'acqua perché adesso cosa dobbiamo fare l'impianto di filtrazione lo devo mettere in direttamente in scarico non in filtrazione altrimenti aspiro tutta questa roba qua e la rimetto nel filtro e mi ritornerebbe dentro la piscina direttamente in scarico e con il mio aspirafango manuale quindi no pulitore questa volta ci vuole l'olio di gomito ok quindi perché se uso il pulitore è un disastro perché i floccoli mi girano ovunque quindi con l'olio di gomito il mio aspirafango aspiro direttamente e lentamente questi floccoli che mando in scarico questo mi dovrebbe consentire di aver quindi abbassato tutta questa massa di materiale organico in sospensione non trattenuto dalla capacità del filtro sul basso e poi eliminato grazie alla pulizia in scarico dopodiché una volta che ho fatto questa operazione cosa faccio rimetto quindi nel utilizzare l'aspirafango in scarico avrò consumato acqua ed è per quello che ne ho caricata di più prima quindi mi si è riabbassata quando sono al mio livello corretto a livello degli skimmer per esempio nel caso in cui ci sia la piscina a bordo sfioro dovrò ripristinare la quantità di acqua quindi non preoccupatevi basta che rimettete acqua nuova e poi rimettete in funzione l'impianto al che cosa faccio dopo metto il mio flocculante di mantenimento in modo tale che aiuto il filtro a recuperare qualora fosse rimasto qualcosa ancora in giro nell'acqua perché sicuramente se avevo una piscina compromessa può richiedere anche una seconda operazione di questo tipo ma nella parte di mantenimento mi ritornano ancora utili le pastiglie il mio filtro la capacità di retenzione del filtro e il miglioramento della trasparenza dell'acqua spero che sia stato abbastanza chiaro perfetto sì è stato chiarissimo vedremo se ci sono altri dubbi domande comunque se ci confermano che è tutto chiaro quindi siamo diciamo arrivati alla fine del nostro webinar prima di concludere invitare il nostro pubblico al prossimo webinar e dare il codice sconto io metterei la slide del riassumendo che è bella sostanziosa quindi propongo se qualcuno vuole appunto ricordarsi di cosa è stato detto di scattare una foto comunque verrà mandata anche la registrazione via mail e quindi ti chiedo appunto di riassumerci tutto quello che abbiamo detto e dopo leggeremo le domande perché ho visto che ce n'è qualcuna perfetto allora riassumendo all'inizio stagione puliamo bene il nostro impianto quindi non lo diciamo su una piscina nuova perché si presume che sia già fatto però ecco quando riapro la piscina in stagione mi assicuro che il filtro e la massa filtrante sia in buono stato che le cartucce siano belle pulite che gli skimmer tutte le zone di aspirazione mandata siano perfettamente in buone condizioni dopodiché per mantenere l'impianto di filtrazione il sistema piscina in equilibrio utilizzo la filtrazione meccanica e l'apporto di chimico mantenendoli in equilibrio quindi l'impianto di filtrazione non può rimanere acceso poche ore deve rimanere acceso le ore adeguate non esiste un'ora adeguata esiste le ore adeguate per il tuo impianto di filtrazione per la tua piscina per il tuo ambiente per la tua temperatura per diciamo le condizioni specifiche di quella piscina poi per migliorare mantenere la qualità dell'acqua sempre più trasparente suggeriamo quello di proporzionare del flocculante e quindi abbiamo visto che può essere quello in forma di pastiglie il più pratico e che ci fa incorrere in meno rischi di produrre flocculazione in vasca e una volta che ho utilizzato il flocculante dobbiamo però ricordarci che tutto ciò che migliora la qualità di filtrazione viene trattenuto dal filtro di conseguenza il filtro va pulito e allora lì l'esigenza di fare di verificare il manometro del filtro che non vada in pressione e in maniera periodica anche lì fare dei controllavaggi qualora la piscina fosse completamente irrecuperabile ci sono i nostri consigli che vi abbiamo appena dato su come recuperare una piscina completamente che ha perso la sua trasparenza in modo totale e quindi affidarsi sempre comunque agli esperti in modo tale da non perdere soldi e tempo in diciamo operazioni ecco che non possono portare a risultati tangibili esattamente allora Andrea io già ti ringrazio in anticipo del tuo aiuto e supporto invito tutti coloro che hanno visto oggi hanno seguito oggi il webinar al prossimo webinar che tratterà proprio appunto delle alghe in piscina quindi come prevenirle e distruggerle e si terrà il 9 giugno io adesso qui in chat vi allego il link per potervi iscrivere al prossimo webinar ok qui dovreste vedere il link vi do il codice sconto che potrete udare su tutto il nostro catalogo che è webinar 10 quindi al momento del vostro acquisto non appena avrete messo tutti i prodotti nel carrello ci sarà l'opzione per raggiungere il codice sconto a voi basterà inserirlo webinar 10 e vi verrà detratto appunto lo sconto dall'importo ed è valido solamente fino a domenica quindi al 30 maggio do qualche secondo per potervelo appuntare e nel frattempo comincio a porre la domanda da Andrea di Fabio e poi quella di Marco per il momento delle domande allora Fabio chiede forse fuori argomento ma posso avere un consiglio sul perché l'acqua della mia piscina è un po' troppo schiumosa forse non è di qualità l'antialghe allora e vediamo devo scendere le due cose nel senso che non credo che sia la causa l'antialghe parliamo dell'effetto allora quando si parla di acqua schiumosa che cosa si intende almeno come la intendo io nella mia esperienza si crea sulla superficie dell'acqua una sorta di microfilm che è dato da sostanze organiche che possono essere le creme che possono essere i residui cioè ricordiamoci sempre che nei primi 10-15 cm di pelo dell'acqua abbiamo la maggior parte della della massa di sporcizia che si trova in piscina quindi quando si crea questo microfilm se io per esempio mi tuffo questo microfilm quando io mi tuffo cosa faccio porto dentro acqua e aria e quando esco quando l'aria risale si 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 incontra con questo microfilm e quanto più il microfilm è resistente quanto più la bolla persiste di conseguenza avrò un effetto ottico di schiuma questo succede spesso nelle vasche per esempio idromassaggio dove perché questo diciamocelo che è vero minore la quantità di acqua maggiore è la possibilità che si crei questo film ok perché è più difficile trattare un'acqua più piccola che un'acqua più con un volume di acqua più grande quindi ecco non so se ho dato la definizione cioè l'effetto schiuma non è data dai prodotti l'effetto schiuma è andrei a guardare una buona qualità di filtrazione dell'acqua quindi sono convinto che il flocculante lo aiuterà molto da questo punto di vista mi verrebbe da chiedergli se ha un'intensificazione della linea di galleggiamento dello sporco relativo a quella che è la linea di galleggiamento tradizionale che si fa si forma sulle piscine perché questo potrebbe essere l'altra risposta e non darei diciamo non darei la causa all'alghicida ecco l'alghicida è un prodotto lo vedremo nel prossimo webinar non glielo diciamo così partecipa al prossimo nel senso che è un prodotto che non deve avere un impatto sull'effetto schiuma della piscina proprio in maniera assoluta non deve averlo quindi ecco microfilm qualità di filtrazione flocculazione mi viene da dire anche di verificare bene i parametri dell'acqua principali pH e cloro libero cloro libero ecco mi raccomando quello libero anche il totale e le cloramine perché può essere anche una una serie di fattori che possono causare questo microfilm però ecco l'effetto è proprio più c'è microfilm e in minor tempo si rompe la bolla in maggior tempo si rompe la bolla e quindi mi sembra di vedere più schiuma perfetto noi comunque lo aspettiamo lo stesso al prossimo webinar del 9 maggio dove parleremo dell'alghicida deve deve ma tu invece ti ha chiesto non ti ha chiesto ti ha chiesto Andrea ho sentito che hai un cane ma cane in piscina buona idea oppure no? allora io ho un cane che è nuvole nuvole meravigliosa io adoro i cani e quando dimensiono le piscine le dimensiono tendenzialmente con una scala interna per l'accesso per i cani quindi per me è una buonissima idea e soprattutto vi dico nel senso che è chiaro che quando fai entrare un cane in piscina che cosa può succedere ha i peli perde i peli e quindi anche lì è una questione di qualità di filtrazione se io faccio accedere il mio cane di famiglia se invece ho una piscina noi abbiamo fatto anche diverse piscine proprio per i cani devo aumentare la qualità di filtrazione proprio perché ciò che i cani portano un po' come noi se ci pensate noi camminiamo sul bordo piscina andiamo nel giardino è difficile che nella maggior parte dei casi ci si fa una doccia prima anziché si va nella vaschetta a lavapiedi quindi forse quasi mai esatto portano dentro i cani poi con i cani cosa fai? ci giochi e anche loro cosa fanno? mentre prendono la pallina che sono in acqua sbavano però se ci pensate anche noi lo facciamo ingoiamo poi sputiamo l'acqua cioè trovo che sia un habitat ideale per tutti gli animali e noi siamo animali quindi sia noi che i cani poi così si vede la mia passione anche per i cani per i cani ecco diciamo che assolutamente sì si può fare tra l'altro il discorso del pH del cloro non cambia cioè nel senso non è che è un danno o è un problema se entra il cane assolutamente no perfetto allora infatti Marco risponde che meraviglia magari anche Marco se ha un cane potrà fare la scala adatta al cane sì e anche se tu ci chiede vuoi dire prima qualcosa tu? no stavo pensando alle scale perché è chiaro che i cani non fanno le scale a pioli per risalire quindi è successo e succede che se non correttamente vigilati se cadono in acqua in piscina non riescono a risalire ed è vero che nuotano però hanno una schiena orizzontale il peso va verso il basso e a volte affogano quindi esistono delle protezioni delle scale aggiuntive da mettere alle scale a pioli che sono di materiale plastico vanno attaccate alle scalette tradizionali e creano una sorta di scala a spiaggia che aiuta il cane a risalire però lo dicevo così per la sicurezza perfetto Franco facciamo l'ultima domanda proprio perché abbiamo sforato di qualche minutino Franco ci chiede per il dosaggio delle pastiglie come ci regoliamo allora per il dosaggio delle pastiglie così come per qualsiasi altro prodotto la migliore soluzione visto che abbiamo visto rappresentati prima abbiamo in tutto per la piscina più di 15 flocculanti a disposizione affidarsi alle istruzioni di fabbrica cioè all'interno dell'etichetta ci sono le raccomandazioni d'uso ci sono i dosaggi e anche i sistemi di protezione individuali da impiegare perfetto risposta molto diplomatica però effettivamente è da dare così perché se no si parlerebbe solo di un articolo specifico invece meglio consultarli tutti insomma certo allora noi siamo arrivati alla fine di questo webinar prendiamoci qualche secondo perché vedo che qualcuno sta scrivendo quindi non so se arriva una domanda all'ultimo no ci ringraziano quindi ringraziamo noi per averci seguito io ringrazio Andrea per averci guidato ancora una volta in questo percorso ricordo sempre che se avete dubbi o domande non esitate a contattarci sia al nostro indirizzo mail info chiocciola tutto per la piscina punto it sia potete visitare il nostro sito www.tuttoperlapiscina.com e vi ricordo il codice sconto webinar 10 e vi invito anzi vi invitiamo io e Andrea a partecipare al prossimo webinar sull'antialga che è il 9 giugno quindi vi ringrazio per averci seguito e ringrazio ancora una volta a te Andrea grazie a voi grazie Monica e a tutti gli amici che ci seguono grazie grazie arrivederci alla prossima ciao ciao